amici di basket italy bentornati in questa nostra nuova puntata il nostro format video che ormai conoscete conoscete benissimo ma lo seguite assolutamente ci date sempre più calore che supporto vi vi invito di nuovamente a seguire il nostro podcast disponibile su spotify apple podcast apple podcast e google podcast e a seguirci su youtube mettere un mi piace ai nostri video commentare e soprattutto iscriviti al canale attivando anche la campanella per restare sempre aggiornati in tempo reale sui nostri nuovi contenuti video per quanto riguarda il mondo della palla spicchi quest'oggi l'ospite che mi accompagnerà in questo viaggio è Jacques che non è nuovo anzi forse è l'ospite che più avete visto su questi schermi in questa prima veterano della stagione questa prima stagione appunto del nostro format video quindi saluto Jacques e lo ringrazio per essere venuto mio ospite ciao 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 Nicolo ciao Nicolo grazie a te e un saluto a tutti gli amici all'ascolto bene Jacques allora partiamo subito a bomba non perdiamoci i chiacchiere e diamo a Cesare quel che è di Cesare come ti dicevo prima della della messa in onda ovvero Napoli possiamo dire l'anno prossimo la vedremo ancora nel massimo campionato di basket sì Napoli ha raggiunto l'aritmetica salvezza in uno scontro drammatico giocato ieri sera in posticipo sul Rai Sport al Paladozza di Bologna contro la la fortitudo per Napoli è stata anche una se vogliamo quasi una lunghissima vendetta dopo tantissimi anni perché proprio al Paladozza la Napoli di Maione di Bucchi coach Bucchi vide infrangersi sedici anni fa ormai eh le speranze di di uno scudetto che sembrava la portata in una grandissima serie di semifinale persa proprio a gara cinque al Paladozza con grandi rimpianti specialmente per quello che si era visto in gara uno con una partita persa a supplementare e ieri è stata una partita davvero equilibratissima quasi un un lunghissimo interminabile supplementare una una partita molto molto appunto equilibrata di grandissima intensità grandissimo livello agonistico non altrettanto alto il livello il livello di gioco con tantissimi errori frutto sicuramente della pressione per la posta in palio altissima ricordiamo che voglio dire che Napoli appunto vincendo si sarebbe salvata mentre invece la fortitudo vincendo a sua volta avrebbe avuto grossissime chance di salvezza perché avrebbe sovravanzato Napoli diciamo al terzo ultimo posto con una sola partita da giocare contro Reggio Emilia già certa dei playoff mentre invece Napoli avrebbe affrontato Pesaro che si giocherà comunque domenica prossima l'ultimo posto disponibile proprio al palabarbuto per per l'ingresso della glia dei playoff quindi era una un vero e proprio spareggio salvezza quindi chiaramente partita con con le due squadre sotto una grandissima pressione il livello tecnico anche per questo molto basso ma anche perché ovviamente parlavamo della penultima della terzo ultima in classifica e ahimè voglio dire non non è un caso abbiamo visto tantissimi errori al tiro percentuali molto molto bassi da tre punti e per la fortitudo anche percentuali molto bassi ai liberi mentre invece Napoli per una volta ha invertito una tendenza che l'ha condannata per in moltissime partite cioè ha attirato con una percentuale molto alta ai liberi e questo è il risultato poi determinante ai fini del risultato finale posso mi sento di poter dire che la vittoria di Napoli è meritata perché comunque la geghi è stata in vantaggio quasi lungo tutto l'arco della partita se seppur con vantaggi più con con margini piuttosto bassi credo che il massimo vantaggio sia stato di sette punti verso la fine del terzo quarto quindi davvero sempre una partita molto molto in bilico un allungo finale dovuto ai tanti errori di Bologna e a al grande dominio al rimbalzo offensivo di Napoli con Budaitis ma anche con Jordan Parks che ha riscattato una prova in colore per trentasette trentotto punti direi in colore davvero guarda Niccolò un eufemismo perché ha giocato davvero molto molto male con percentuali pessimi al tiro però insomma con un bel canesso e due tre rimbalzi sia difensivi ma soprattutto offensivi con falli subiti e quindi tiri liberi realizzati Parks ha permesso insieme a McDuff e a Budaitis di scavare quel piccolo solco che poi si è rivelato determinante negli ultimi due minuti due minuti e mezzo di partita quindi diciamo Napoli ha alla fine meritato il successo ed ha coronato una stagione eh diciamo estremamente travagliata l'obiettivo minimo della cioè l'obiettivo diciamo dichiarato della società era stata la salvezza sin dall'inizio ma la c'è stata una una partenza molto molto incoraggiante lo ricorderai con con sette vittorie nelle prime undici partite una striscia di cinque vittorie consecutive che aveva illuso tutti a a Napoli e aveva diciamo portato la squadra a un passo dalle dalle final eight di Coppa Italia poi un crollo verticale con una serie interminabile di sconfitte eh l'esonero di Sacripanti e chiaramente insomma quindi l'arrivo di coach Buscaglia che con due vittorie nelle prime tre partite sembrava aver chiuso la pratica salvezza invece poi le ultime sconfitte specialmente in casa avevano portato Napoli a giocarsi tutto per tutto nella nella partita di ieri è chiaro che ora che l'obiettivo è stato raggiunto sarà sarà necessario importante fondamentale fare un'analisi molto lucida di quello che è successo degli errori che sono stati fatti sicuramente la squadra ha pagato la sfortuna insomma molto all'inizio perché ha perso l'asse play pivot su cui diciamo aveva imperniato il mercato coach Sacripanti eh parliamo di Josh Mayo che era stato l'artefice della promozione e di Frank Elegar che dopo un avvio un po' un po' sentato eh stava giocando ad ottimi livelli e si è si è rotto il tendine rotulio del ginocchio quindi un infortunio che l'ha tenuto fuori per tutto il resto della della stagione e Napoli quindi ha dovuto rifare l'asse play pivot e le nelle scelte per sostituire questi due giocatori meglio ricordiamo tornato in America per per problemi familiari ehm ha incontrato delle difficoltà ed ha sbagliato delle scelte anche diciamo scelte che sembravano assolutamente corrette e condivisibili ricordiamo che l'arrivo di Jeremy Pargo nello spotty play era stato salutato con entusiasmo da chi lo ricordava in Europa lo ricordava a Venezia e quindi insomma lo ricordava giocatore giocatore di di ottimo livello Pargo invece sicuramente anche dopo un avvio discreto eh diciotto punti nell'esordio a Pesaro si ricordò bene comunque insomma poi man mano si è perso e ha mostrato anche uno scarso attaccamento al alla causa cosa che ha indotto poi la società a a sostituirlo e e anche Lynch che ha sostituito invece eh Elegar non non si è non si è mostrato adatto al al gioco della squadra alla squadra al gioco della squadra di Sacripante è stato preso poi Totè insieme a Vitali lo spot di di player di pivot ma anche qui Vitali nel finale ha dato anche un buon contributo Totè in realtà non ha praticamente mai giocato è stato vittima di un problema al ginocchio che l'ha tenuto fuori dopo un paio di partite praticamente per tutto il resto del della stagione e eh diciamo l'arrivo di Kudaitis eh ha comunque rimesso un po' le cose a posto anche se poi magari aveva modo di parlarne Kudaitis fino a ieri aveva aveva comunque deluso anche gli aspetti quindi tanti errori in fase di di costruzione in fase di riparazione anche in fase di costruzione perché secondo me la scommessa più grande dell'anno che era stata quella di 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 Rich di Jason Rich che era che era il fromboliere l'uomo dai venti punti a partita sui quali sul quale diciamo Sacripante aveva puntato tutto ex MVP nel 2018 con Avellino in realtà raramente ha inciso in modo determinante e quindi Napoli ha fatto una gran fatica ha fatto una gran fatica la società penso però eh che vada vada elogiata perché ha fatto di tutto per mantenere la categoria anche sforando il budget che si era dato eh credo che eh abbia fatto abbia fatto tesoro degli degli errori commessi come ha detto anche lo stesso presidente Grassi in occasione della della conferenza stampa di presentazione di Kudaitis ha detto ora dobbiamo pensare a salvarci e poi faremo tesoro degli errori degli errori fatti diciamo in questa stagione io credo personalmente Nicolò che a questa società che è una società giovane e quindi neanche poco esperta e anche poco strutturata manchi proprio un po' di organizzazione a livello generale e manchi sicuramente una figura un po' di raccordo un po' di di coordinamento consentimi anche un po' di filtro tra la società tra l'ambiente i tifosi e mh e diciamo così la proprietà quindi un general manager sappiamo che Napoli ha rinunciato e ha salutato all'inizio stagione eh Miringhi al di là dell'ottimo lavoro e delle ottime potenzialità della grande competenza del DS bolognese io credo che comunque una figura di maggior anche esperienza eh possa essere fondamentale eh e quindi mi auguro che diciamo nella prossima stagione partendo però dal risultato importantissimo della permanenza in Serie A che consente anche di avere una certa continuità per una per una per un ambiente che mancava in Serie A da undici anni io penso che si possa eh diciamo far molto meglio di quello che si è fatto l'anno scorso quest'anno insomma l'anno appena trascorso e quindi crescere in modo graduale come come la società ha sempre auspicato. Esatto quindi diciamo grazie innanzitutto per questa linea del tempo che ci hai concesso da dall'inizio della stagione fino fino a ieri eh quindi peccato perché Napoli se la del tono poteva essere un po' la cenerentola di della Serie A eh quello che poi fino a metà campionato è stato poi peccato ci sia. Si è rivelata e ne parleremo poi dopo eh la la Bertram Tortuna. Consentimi Nicolò parliamo parliamo di questa sfida salvezza tra due grandi piazze del della pallacanese italiana e quindi consentimi di fare un grande in bocca al lupo alla fortitudo a Bologna che retrocede in Serie A due e una piazza storica a Bologna che ha chiaramente sempre la Virtus ad altissimi livelli ma che perde chiaramente una 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 la Serie A perde una grande squadra perde un un tifo caldissimo forse a mio avviso la Fosse delle Uni veramente la tifoseria tra le più calde in Italia se non la più calda una un palazzetto sempre appassionato quindi l'augurio insomma chi ama il basket non può non amare non amare la fortitudo a Bologna rispettarla profondamente quindi ci auguriamo che presto possa tornare eh diciamo in Serie A che insomma è è casa della fortitudo e il posto delle competenze consentimi questo grande in bocca al lupo alla alla F. Esatto quindi in bocca al lupo l'anno prossimo alla alla fortitudo per il campionato di a due. Eh passiamo adesso invece ha eh tu l'hai nominato poco fa eh ultimo acquisto diciamo tra le tra nelle le gerarchie di coach Buscaglia Artus Gudaitins non nuovo nel campionato di Serie A quale prima ex eh Armani Milano nella gara di ieri 14 punti e 23 minuti ehm forse hai già risposto parzialmente poco fa quando hai fatto la tua linea del tempo ma io ti voglio chiedere una volta di più è stato quanto è stato determinante e se lo è stato nella nel nel rush finale dell'agente Artus Gudaitins è arrivato a una manciata di partite dalla fine ricordiamo che lui diciamo era era fermo per un infortunio ma era fermo anche da parecchio tempo con lo Zen San Pietroburgo il campionato russo insomma chiaramente ha visto un po' una fuga di di grandi giocatori eh per via di quello insomma di quello che purtroppo eh stiamo vedendo da più di due mesi in Ucraina eh fino a ieri va detto con grande onestà intellettuale Gudaitins era apparso un po' un oggetto misterioso chi non l'aveva visto giocare a Milano chi non l'aveva visto giocare in Eurolega sentava a credere che fosse il grande acquisto che insomma gli addetti ai lavori mi è compreso devo dire avevano avevano eh presentato all'ambiente perché comunque aveva fatto molta fatica secondo me a mio avviso a causa di una condizione atletica veramente deficitaria sia per l'infortunio per il quale era stato fermo ma anche proprio per la per l'inattività la desuetudine all'allenamento si è visto un Gudaitis anche nella vittoriosa trasferta di Treviso un Gudaitis in grandissima difficoltà sempre eh diciamo presente sotto canesso prendere tantissimi falli ma anche con percentuali piuttosto base di liberi quindi alla fine mai veramente un fattore nelle partite precedenti ieri invece è stato determinante è vero che ha sofferto l'ottima prova di Groselle che è stato insieme a Frecci l'unico giocatore davvero eh che ha avuto un impatto positivo per la fortitudine nella partita di ieri lo ha sofferto in difesa Groselle ha fatto ha fatto un'ottima prestazione attacco però in attacco ha dominato con grandi movimenti e con grande presenza a rimbalzo con un paio di rimbalzi veramente determinanti anche nel nel concitato ed equilibrato finale di partita quindi sicuramente eh lo ha aiutato anche la sua grande esperienza a livello internazionale la partita di ieri si giocava in un ambiente caldissimo e i giocatori molti giocatori di Napoli non sono abituati a giocare in un ambiente così caldo una sfida così importante lui che chiaramente ha giocato da gioca da tantissime anni in una riga era invece molto più abituato infatti ha giocato con grande sicurezza e ha trasmesso anche grande sicurezza alla squadra ci siamo chiesti tu prima gli dicevi giustamente quattordici punti in ventitré minuti forse sarebbe stato anche possibile possibile sfruttarlo maggiormente ma credo che coach Buscaglia abbia innanzitutto voluto averlo fresco per il finale visto che comunque aveva un'autonomia limitata come dicevamo prima per via del di una condizione atletica non eccezionale e poi perché comunque fortunatamente come devo dire in tutto il resto della stagione Zerini eh uno degli italiani più eh diciamo eh degli italiani determinanti lo zocco d'uro italiano della 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 Givi Napoli Zerini lo ha lo ha ben sostituito ogni volta è stato chiamato eh in causa anche nella partita di ieri quindi è chiaro che lo ha gli ha permesso di rifiutare e di essere determinante nel nel negli ultimi minuti di partita quindi diciamo che Gudaitis chiaramente adesso ci sarà la passerella eh finale al al Palabarbuto contro Pesaro poi tornerà a San Pietroburgo e il contratto garantito quindi non verrà non verrà confermato anche perché costa davvero tanto eh siamo siamo lontani dai livelli diciamo che una squadra come Napoli che comunque è una neopromossa in Serie A si può permettere ehm quindi tornerà tornerà allo Zenit però lascerà comunque ai tifosi un bel ricordo di una di una grande prestazione determinante nella partita della salvezza quindi questo lo si può dire sicuramente. Esatto quindi Jack siamo già in chiusura perché insomma ho voluto dedicare questa puntata interamente alla salvezza della della Givi e anche per dare un po' di come dire di merito a a te che sei stato con l'ospite che in questa stagione video è stato il più presente quindi ho già voluto dare questo spazio e concluderei in con invece facciamo un piccolo recappino chiamolo così per quanto riguarda la situazione playoff visto che la situazione salvezza l'abbiamo già delineata eh playoff per Sassari e Reggio Emilia che si uniscono così alla Virtus a Milano a Brescia e Venezia quindi ti chiedo un'altra persona le previsioni in vista dei playoff che eh partiranno tra pochi settimane. Beh guarda diciamo che con l'arrivo di con l'aritmetica certezza per per Sassari e Reggio Emilia di 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 disputare playoff insieme come dicevi tu alla Virtus a Milano a Brescia a Venezia e eh permetti in particolare alla alla grande sorpresa la Bertram Tortona che 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 da neopromossa si è qualificata con grande merito e con grande diciamo con sorpresa fino a un certo punto per i playoff perché ricordiamo che la Bertram Tortona ehm ha ha disputato anche la la finale di Coppa Italia quindi ha sta coronando una stagione veramente eccezionale e ti posso dire perché eh Tortona si è sfidata più volte con Napoli eh nelle fasi iniziali dello scorso campionato di A2 che per chi non ha visto solo per chi non l'ha visto giocare Tortona l'anno scorso può essere una una sorpresa così forte la diciamo il campionato disputato da Tortona coach Ramondino si è dimostrato già l'anno scorso essere un allenatore veramente di grande livello eh hanno saputo fare un mercato intelligente con uno zoccolo duro italiano e consentimi da napoletano di fare davvero i complimenti a Bruno Mascolo che ha giocato anche con la maglia di Napoli nelle serie minori per l'ottimo lui è campano e ha disputato davvero un ottimo campionato è stato anche convocato in nazionale quindi davvero complimenti complimenti a Bruno Mascolo e e quindi diciamo che eh in queste ultime partite si è andata un po' risolvendo quella grande matassa della della del centro classifica con le squadre che hanno oscillato dal diciamo per tutto l'anno se vogliamo no dalla speranza di fare playoff alla paura di di essere invischiate nella lotta per la retrocessione insomma anche Varese ha 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 vissuto un po' questa altalena nelle ultime nell'ultime settimane ehm questo ha dimostrato che comunque il campionato alle spalle del terzetto ehm Virtus Milano e Brescia va detto Brescia grandissimo campionato con quattordici mi pare una striscia di quattordici vittorie consecutive a un certo punto eh in anellata eh insomma voglio dire sono state quelle che hanno dominato ma dietro c'è stato grandissimo equilibrio e credo che sia alla fine abbiano meritato le squadre le squadre eh diciamo che sono qualificate e direi che al di là proprio di Tortona sono tutte squadre che erano abbastanza diciamo pronosticabili come eh partecipanti partecipanti a playoff parliamo di Venezia parliamo di di Sassari squadre che insomma Reggio Emilia squadre che negli anni scorsi hanno fatto anche la finale scudetto che è venuto un po' meno e si è trovata ai margini della zona di intercessione proprio Trento insieme a Treviso dopo l'ottima partenza di entrambe le squadre eh diciamo l'ottima partenza iniziale e chiaramente adesso restano Pesaro e eh e Trieste a giocarsi l'ultimo l'ultimo posto praticamente per per i playoff all'ultima giornata e devo dire che Trieste era partita anch'essa molto bene ma Pesaro se riuscisse a accentrare la qualificazione playoff credo si potrebbe parlare di capolavoro di coach Banchi perché ricordiamo che Pesaro a un certo punto era ultimissima in classifica io ho visto Napoli sbancare Pesaro in scioltezza un ambiente eh infuocato eh contro la società contro contro i giocatori quindi diciamo veramente eh Banchi ha preso una una squadra a pezzi e con anche gli innesti durante l'anno eh di 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 l'infa nuova dal punto di vista del del roster diciamo ha 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 fatto una grandissima rincorsa e adesso si gioca l'ultimo posto disponibile per i playoff e quindi grande merito alla VL credo che gli vada dato vada vada dato atto al a Pesaro al di là di come si concluderà questa stagione di aver fatto davvero una grandissima rincorsa. Mh detto ciò chiaramente ovviamente le eh gli accoppiamenti eh più equilibrati sono quelli come al solito tra tra la quarta e la quinta tra la terza e la sesta quindi parliamo ecco eh di un possibile accoppiamento eh che ne so tra Brescia e Sassari tra Tortone e Venezia sono squadre che secondo me daranno vita a delle serie molto equilibrate con con possibili sorprese in ogni partita però sappiamo che questo è un campionato non quanto l'anno scorso ma comunque in modo importante è stato eh determinato dalle incognita covid dagli infortuni dalle dagli impegni delle coppe europee ecco consentimi anche di fare i complimenti a Reggio Emilia che è riuscita veramente in modo incomiabile a a come dire a coniugare l'impegno europeo con con l'impegno in campionato raggiungendo la finale della propria competizione europea e eh i playoff quindi davvero una stagione da incorniciare per la squadra di coach Kaya ehm quindi io diciamo che ovviamente dal dalle dalle serie che vedranno che vedranno impegnate eh la Virtus e Milano mi aspetto poche sorprese però come dicevamo Milano sappiamo che ha le prese con una lunga serie di infortuni quindi la Virtus parte favorita è anche vero che l'anno scorso per esempio Milano pagò l'impegno nelle final four di Eurolega che quest'anno non avrà ai ai loro voglio dire eh peggio per Milano però da questo punto di vista potrebbe anche risultare un po' più fresca la squadra di coach Messina nel nel in un'eventuale eh serie di finale quindi chiaramente grandi favorite Virtus soprattutto Milano eh subito l'incollatura dietro però eh insomma il basket e i playoff ci hanno sempre abituato a grandi sorprese quindi salutiamo questa regular season eh equilibratissima per gran parte diciamo delle delle squadre che hanno lottato per salvezza e per playoff e eh apprestiamoci a vivere eh una post season che sicuramente sarà sarà entusiasmante e ricca di sorprese con i palazzetti praticamente pieni finalmente e questa direi un'altra grandissima notizia per vivere davvero l'atmosfera magica dei playoff nei palazzetti nei palazzetti eh gremiti. Perfetto Jacques io non posso fare altro che ringraziarti di essere venuto ovviamente i miei ospiti di avermi fatto questa grande tua come dire questo tuo intervento come sempre mai banale e ricordo sempre agli ascoltatori di Baschettite di seguirci qua sul nostro canale YouTube di ascoltare il nostro podcast e di mettere un mi piace e iscrivervi al canale attivare la campanella e farci sentire il vostro calore io ringrazio Jacques per essere tutti gli ospite. Grazie a te Nicolo è sempre un piacere alla prossima e viva il basket e un saluto a tutti gli appassionati. Esatto io vi rimando alla settimana prossima dove commenteremo l'ultima giornata di campionato con un occhio forse anche un occhio e mezzo due sui playoff che partiranno subito dopo. Ciao! Ciao!